L'anno è quasi finito e possiamo vedere le benedizioni che Dio ci ha dato ogni giorno. È un momento per ringraziare, condividere, sorridere, celebrare e rinascere. Come Edizioni ADV auguriamo a tutti di poter essere un dono che trasforma vite, di essere rappresentanti di Gesù sulla Terra. In queste ricorrenze possiamo condividere la speranza, donando nuove letture che possono toccare il cuore di molte persone. Il libro L'Evangelizzazione di Alan White è il vero cuore del cristianesimo. Attraverso i numerosi consigli e le applicazioni pratiche diventa una vera enciclopedia dell'evangelizzazione, da consultare per trovare ciò che è più necessario nella propria situazione personale. Da cuore a cuore è una raccolta contenente 52 meditazioni, storie di giovani che condividono la loro esperienza di fede e di missione per accompagnarti ogni settimana dell'anno nel tuo incontro personale con Dio. Il Battesimo nel corso dei secoli è un libro che illustra l'origine e la storia del Battesimo. Contiene informazioni preziose che aiutano a comprendere veramente il significato del Battesimo. è anche una guida per chi ama viaggiare e vuole conoscere tutti i battisteri d'Italia. Ci mettiamo il naso è un libro che raccoglie storie di uomini e donne che dopo una giornata di lavoro indossano un naso rosso e un camice con mille colori. Un libro che insegna a prendersi cure degli altri e riflette il metodo di Gesù attraverso la bellezza di un sorriso. Questo Natale regalate nuove storie, sorrisi e speranza attraverso un libro. Contatta il responsabile della libreria della tua chiesa o visita il sito edizioniadvshop.it Grazie a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati.